ciao a tutti oggi vorrei presentarvi il mio pollo ingredienti ovviamente il petto di pollo tagliato a bocconcini qualche fogliolina di alloro tre cucchiai di farina per polenta un pizzico di sale dell'olio e della passata di pomodori cuocerà per circa 20 minuti e poi buon appetito perciò buon appetito